Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima, se vi fa piacere, potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale e potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Prima di illustrarvi i vari tipi di compressore, facciamo un discorso generale. Controllare spesso la pressione delle gomme dell'auto è un'operazione fondamentale per garantire la nostra sicurezza alla guida e quella dei passeggeri. Gonfiare troppo o troppo poco gli pneumatici, infatti, può avere numerose conseguenze sul comportamento della nostra vettura che vanno dai rischi per la sicurezza al volante, al quello di foratura durante un viaggio, fino a un aumento dei consumi dell'auto e dell'usura delle gomme. La Commissione europea, in uno studio recente, ha calcolato che le gomme non sufficientemente gonfie possono aumentare il consumo di carburante fino al 4%, visto che l'attrito fa compiere al veicolo uno sforzo maggiore e che la loro durata può diminuire del 45%. Per risolvere tutti questi problemi e far fronte a ogni eventuale emergenza, vi consigliamo di tenere sempre in auto un compressore portatile digitale, che è uno strumento economico, compatto e facile da utilizzare per tutti. Il compressore portatile digitale è lo strumento ideale per gonfiare le gomme dell'auto e della moto ovunque ci si trovi, anche in caso di emergenza. Può capitare a tutti, infatti, di ritrovarsi in strada con uno o più pneumatici sgonfi e di dover correre alla ricerca della prima stazione di servizio disponibile per gonfiarli. Non proprio il massimo della vita, specialmente quando questo accade in vacanza, durante un viaggio verso le proprie mete preferite, o in un momento della giornata particolarmente complesso, tra impegni lavorativi e strade trafficate. Al di là degli imprevisti, però, sussiste un vero e proprio tema sicurezza. Il grosso problema è quello relativo alla pressione delle gomme, che deve sempre essere ottimale per evitare problemi inutili e pericoli su strada, quali per esempio, il rischio di un'esplosione della gomma, movimenti più difficili dello sterzo, l'allungamento dello spazio di frenata sul fondo bagnato o umido, l'usura dei bordi del battistrada e del cerchione, la poca resistenza all'acquaplaning. Fortunatamente tutti questi problemi possono essere risolti facilmente, acquistando un compressore digitale portatile. Il compressore digitale si può trasportare ovunque ed è anche molto facile da usare per tutti. Per utilizzarlo, infatti, non bisogna di certo essere dei meccanici di Formula 1, basta semplicemente impostare la pressione desiderata sul display dell'apparecchio e applicare l'ugello del compressore, da cui fuoriesce l'aria, alla valvola della ruota. Dopo pochi secondi, il compressore inizierà a gonfiare le gomme in automatico. I modelli digitali, quando raggiungono la pressione desiderata, si fermano da soli, in modo da evitare i rischi di un gonfiaggio eccessivo o di una bassa pressione degli pneumatici. Il compressore portatile esiste in differenti modelli e varianti, sia per auto che per moto. Vediamo i migliori strumenti che si trovano comunque su Amazon. Partiamo! Xiaomi compressore digitale portatile Il primo compressore che ci sentiamo di consigliarvi è quello di Xiaomi, ottimo prodotto di un noto brand, recensito positivamente da migliaia di utenti. Il prezzo è accessibile a tutti, poco meno di 50 euro. Si tratta di un compressore digitale portatile con sensore di pressione, che può essere molto utile per gonfiare le gomme dell'auto e della moto, ma anche delle bici e dei monopattini elettrici. Tra i suoi punti di forza, piccole dimensioni, comodità nel trasporto, leggerezza, batteria ricaricabile. Il compressore di Xiaomi, inoltre, sfrutta l'ottima tecnologia del marchio ed è dotato di differenti programmi predefiniti che lo rendono uno strumento più facile da utilizzare per tutti. Passiamo poi ad Amazon Basics il compressore con doppi morsetti per la batteria. Altra proposta tra i compressori portatili è quella di Amazon Basics. Questo prodotto è compatto e utile per tutti. Si tratta del prodotto ideale per il gonfiaggio degli pneumatici. Funziona grazie all'alimentazione tramite connessione diretta alla batteria della macchina, includendo i doppi morsetti a pinza. Il tubo dell'aria da 50 centimetri si connette alla camera d'aria di 5M, è dotato di manometro digitale di facile lettura e luce a LED. Si può usare in caso di emergenza, è possibile portarlo con sé durante un viaggio in famiglia o utilizzarlo per la manutenzione ordinaria della pressione degli pneumatici. Il compressore ad aria di Amazon Basics offre prestazioni affidabili, è dotato di una borsa per il trasporto inclusa, per averlo comodamente sempre con sé. Al terzo posto, ma non per importanza, piazziamo Wind Gallup Mini Compressore Portatile. Il Mini Compressore Portatile per Auto Wind Gallup è uno dei più economici su Amazon. Una proposta molto interessante, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Costa meno di 24 euro, è accessibile a chiunque. I suoi punti di forza? Sicuramente la facilità di utilizzo, ma non solo. È molto rapido, è potente, stabile e poco rumoroso. Bastano solo 5 minuti per poter gonfiare una gomma 195-65R15 da 0 a 35 PSI. Insieme al compressore sono venduti 3 adattatori per valvole. Il tubo è abbastanza lungo e flessibile da permettere di raggiungere qualunque gomma che necessita di gonfiaggio. Il prossimo è l'Astroi Compressore Portatile Digitale. Per poco più di 30 euro è possibile comprare il compressore portatile di Astroal. Un sistema ultraversatile e multifunzione, adatto sia per gonfiare le gomme della moto e dell'auto, che per quelle della bici o di altri veicoli, ma non solo. Con i suoi tre adattatori aggiuntivi, può essere usato anche per il gonfiaggio di oggetti per il tempo libero, attrezzature sportive e molto altro ancora. È dotato di schermo LCD, che mostra i progressi con 4 unità di misura, luce LED che permette un facile uso anche di notte, e di manometro digitale, lo strumento consente di impostare la pressione desiderata e, durante il suo utilizzo, una volta raggiunta, si spegne automaticamente. Ha inoltre una garanzia di 3 anni. E infine, l'OASER compressore portatile digitale senza fili. Per chi cerca una qualità professionale consigliamo il compressore portatile OASER, dotato di una grande varietà di funzioni e accessori che aumentano considerevolmente le capacità del prodotto. Ecco tutti i vantaggi di questo articolo. Batteria da 20 VE2000 ma incorporata e ricaricabile. Esclusivo motore a gonfiaggio rapido. Uno pneumatico vuoto può essere riempito in 3 minuti e la batteria completamente carica può far sì che il compressore riempia 6 pneumatici vuoti. Display digitale che può mostrare la pressione corrente degli pneumatici e preimpostare la pressione desiderata contemporaneamente. 6 luci LED superluminose ideali per le emergenze o i lavori notturni. Dissipazione del calore efficiente e spegnimento automatico. Numerosi altri accessori tra cui cavo di ricarica USB, adattatore per valvola presta, aguasfera e diversi ugelli e adattatori che si adattano ad auto, moto, biciclette, palloni, canotti e giochi gonfiabili. In questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.